Pettorina arancione, guanti e sacchi per l'immondizia, è iniziata così l'avventura di Ripuliamo, specialmente un progetto a favore di persone con disabilità intellettiva. Con il Comune di Arezzo e la cooperativa TMA, la nostra associazione cerca di trovare percorsi diversi per i ragazzi, anche percorsi di gratificazione, di acquisizione di competenze. Mi sembra che i ragazzi sono veramente bravi e entusiasti. A lavoro ogni giovedì in due parchi cittadini di Arezzo, Pertini e Modigliani, sei ragazzi e quattro tutor. I ragazzi hanno l'obiettivo di diventare sempre più autonomi all'interno di questo percorso e quindi una volta chiarita la mansione li lasciamo operare da soli e magari si aiutano tra sé e compensandosi anche per le competenze che hanno e tengono puliti questi parchi. Per loro diciamo che questa è un'occasione per stare insieme, per cominciare a vivere la loro prima età adulta, perché hanno finito la scuola, la stanno finendo e iniziano a misurarsi all'interno del mondo del lavoro. Per loro è una grande opportunità per la crescita dell'autostima. Il progetto nasce con l'obiettivo a lungo termine di sensibilizzare la cittadinanza da un lato attraverso il decoro e dall'altro attraverso l'inserimento sociale. L'autismo non è un altro mondo, fa parte di questo mondo. Noi vogliamo stare in mezzo alla gente, non c'è nessun problema, nessuna paura. È soltanto una questione di conoscenza e di consapevolezza che tutti siamo diversi, tutti abbiamo i nostri talenti, quindi basta individuare il talento di ognuno e siamo in grado di fare tutto.